Stiamo facendo una passeggiata lungo Greenloch, siamo andati in avanti e siamo tornati indietro. Che cosa ho visto? Perché l'ho visto? Perché lo dicevamo che qua ci sono, vero? E cosa c'è qua? Guarda qua che bel gambone. Anche in Scozia li troviamo. Si vede a suonare un porcino scozzese. Che c'ha il kilt, eh? Da sotto ha il kilt. E' così. Vuoi dire che anche in Scozia non ci siano i porcini? Ci sono! E che bella location che c'ha, lungo il sentiero del lago. Ciao! Grazie Bosco!